La soddisfazione di una squadra non è un risultato mio personale, bensì di un risultato di una squadra che messa insieme ha avuto un risultato omogeneo su tutto il territorio. Tutte le fasce hanno risposto e hanno risposto bene, quindi questo appunto è il risultato di circa 9.000 voti di tanti protagonisti messi insieme. Si affronterà sicuramente sul solco dei regionali, c'è una coalizione per la prossima elezione di marzo dove vedo azioni anche all'interno, sicuramente sarà una larga coalizione anche qui in provincia. C'è già un lavoro messo in campo importante in questi primi mesi della presidenza d'Angelo sulla viabilità e sull'edizia scolastica, sicuramente vanno ancora di più accelerate queste due azioni e piano piano va anche rafforzata la macchina provinciale con nuovi dipendenti. Un grande risultato, sinceramente non me l'aspettavo e ringrazio chi ha avuto fiducia in me, nella mia persona e nel mio lavoro. C'è un grande entusiasmo, partiremo da un punto base che sarà la riorganizzazione di tutto il centro-destra e cercheremo di andare avanti.